Sì, signore. Patatine? Due. Basta, basta, ragazzi. Le serenate del sud, le calde, dolci, snervanti notti di Sicilia. Durante tutto il tempo che ne ero stato lontano, il ricordo di quelle notti, o meglio, di una notte. Aveva popolato le mie ore di rimpianti, di nostalgia. Agramonte. 18.000 abitanti, 4.300 analfabeti, 1.700 disoccupati, trafissi e fluttuanti. 24 chiese, se ben ricordo, tra le quali si annoverano alcuni notevoli esemplari barocchi del Tardo Seicento. Questo è Palazzo Cefalù. E questo è lo stemma dei miei avi. L'unica cosa, quasi che mio padre non si fosse ancora venduta. Le dissipazioni di papà, sulla natura delle quali sorvolo per rispetto a mamà, ci avevano ridotti ad abitare in una sola ala del palazzo, mentre l'altra ala era stata occupata da mio zio Calogero e dalla sua famiglia. Ma di questo fatale condominio e delle sue conseguenze tirò più avanti. Ah, eccolo qua mio padre, il barone Don Gaetano Cefalù. E questi sono gli amici del circo. Alla vostra bellezza, barone. Lasciamo le mani, Don Gaetano. Per cinque secondi egli è stato l'oggetto delle loro chiacchiere. Ma eccoli già ritornati al loro argomento preferito. Le donne. Era un discorso inesauribile. Nell'accesa fantasia dei miei concittadini, le donne si tingevano dei colori del mito. Le favolose, invisibili donne di Agramonte che celavano le loro bellezze e il loro ardore dietro le grate, pardon, dietro le stecche di vere conde persiane. Agramonte proletario invece procedeva gloriosamente sulla via del progresso. Un progresso un po' lento forse. Eh sì, ma alle spregiudicate trombe proletarie rispondevano altrettanto sonore le campane di San Firmino. E perciò, miei cari fedeli e amati concittadini, io vi esorto a dare il vostro suffraggio ad un partito che sia popolare, e cioè democratico e quindi rispettoso della nostra fede cristiana. Un partito, per concludere, che sia democratico e cristiano. mia moglie Rosalia, dodici anni di matrimonio. Donna Matilde, mia madre. Mia sorella Agnese, nubile e a carico, ufficialmente compromessa, cioè fidanzata, con Rosario Mulè, della onorata ditta Mulè e figlio, agenzia di pompe funebri. Ah, questo è Don Calogero, l'intruso di Palazzo Cefalù, il marito di zia Fifiida, sorella di mio padre. Nel giro di una quindicina d'anni, l'ex Massaro Don Calogero, avallando incaute cambiale di gioco emesse da mio padre, si era andata accaparrando i pezzi più pregiati dalle nostre proprietà. E questa, infine, è Angela, figlia di Calogero e Fifiida, e quindi mia cugina carnale. Angela frequentava le magistrini. frequentava le magistrali in un collegio di suore di Catania. L'estate veniva a passare le vacanze in casa. Io amavo Angela.